LIC! Ben ritrovati in i cari eventori dell'Uisona Bar Calcio. Oggi è venerdì e stasera alle ore 20.45 ci sarà Empoli Genoa e quindi cosa significa? Significa che si darà il via alla dodicesima giornata di Serie A e pertanto armatevi di taccuino, penna, calamaio, ok? Per appuntarvi le dritte per quanto riguarda il bet, ossia le scommesse. Infatti adesso andrò a dare, secondo me, quali saranno i pronostici della Serie A, ma non della Premier League e perché. Adesso ve lo spiego. Nell'ultima giornata giocata, in Serie A, abbiamo indovinato solamente la metà dei risultati 5 su 10, quindi interrompiamo una serie incredibili di risultati favorevoli a noi in quanto non andavamo mai sotto le 7, ok? Pronostici azzeccati su 10, molte volte anche 8 e addirittura anche una volta 9 presi, ok? Eravamo in un filotto incredibile, 1, 2, 3, 4, 5 puntate consecutivi in cui si erano fatti veramente faville, fuoche e fiamme, ok? E con quest'ultimo 5 su 10 ci attestiamo su un 67% sulla Serie A che non è assolutamente male. Per quanto riguarda la Premier League invece, il trend si inverte un po' in quanto nell'ultima giornata ho preso solamente 2 su 10 risultati e allora, nonostante il trend sia complessivamente sul 53% di risultati presi, ok? Quindi sì, sopra la metà, ma ben al di sotto di quelle che sono le mie aspettative e quelle che credo anche vostre, quindi mi sospendo momentaneamente per dare i pronostici della Premier League e li darò solamente per la Serie A. Almeno fino a tanto quanto non riuscirò a tornare a essere, diciamo, un osservatore attento, ok, alla Premier League perché confesso che nell'ultimo mese l'ho seguita molto poco per ovviamente tempo, tempo che è venuto a mancare. Ok, detto questo, ok, fatto vedere, no, le percentuali. Andiamo dunque adesso a dare i pronostici della Serie A, iniziando dalla partita di stasera Empoli-Genoa, ok? Partita ovviamente dove l'Empoli viene con mentalità più serena, ok, rispetto al Genova che dovrà fare punti a tutti i costi. Io mi giocherei l'over, cioè sarà una partita con almeno due, cioè con almeno tre reti segnate, quindi più di due. Quindi mi gioco l'over. Per quanto riguarda Spezia-Torino, partita anche questa dove lo Spezia dovrà necessariamente fare punti, il Torino avrà parecchie assenze, una su tutte Pobega ma mi pare anche Fiaca, mi pare anche Brecalo, quindi vengono a mancare parecchi giocatori effettivamente. Però, però secondo me, ok, lo Spezia accadrà e il Torino vincerà ugualmente, quindi io mi gioco il segno 2. Quindi Spezia-Torino 2. Magari che ne so, andrà in segno l'Evergreen-Verdi per l'appunto, o Belotti. Juventus-Fiorentina, anche questa è una partitissima molto sentita, specialmente a Firenze. La Juventus ha ritrovato la vittoria in Coppa, ma il problema è in campionato, quindi una volta che si ritorna in campionato gli spettri potrebbero tornare in campo insieme alla vecchia signora. La Fiorentina proverà sicuramente a mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri, ma secondo me non posso pensare sinceramente che la Juventus faccia tre partite consecutive di sconfitte, men che mai, assolutamente no. Magari potrebbe uscirne un pareggio, però io penso che la Juve dovrà tirarsi fuori da questo anonimato di classifica, perché c'è una squadra che è nettamente superiore a molte altre, devono solamente ritrovare fiducia. E quale partita migliore per farlo se non proprio contro i fiorentini? Partita che magari si prepara da sola, quindi io dico Juventus-Fiorentina segno 1. Poi Cagliari-Atalanta, che abbreviato viene CAG-ATA, eh? Così, la diciamo così. Allora, Cagliari-Atalanta, io dico che fuori casa l'Atalanta è una macina punti, dico che soprattutto ho visto il Cagliari contro il Bologna, ed è una squadra in coma, una squadra in coma, non vedo come l'Atalanta non possa vincere, e anche pesantemente. Quindi dico 2. Venezia-Roma. Venezia-Roma. Allora, il Venezia sinceramente è una squadra che mi lascia un po' interdetto, nel senso che delle volte quando lo guardo si vede che sono ordinati, che sono diligenti, difendono bene, fanno fatica un po' ad attaccare, poi adesso gli manca Johnson, che era per loro, secondo me, un punto abbastanza importante, e quindi perdono di imprevedibilità. Va detto che di fronte hanno una Roma, che anche ieri in Conference League non sono riusciti ad averla meglio del Bodo Glimt un'altra volta. La Roma gioca male, diciamo, la Roma ha dei problemi seri. Non lo so. Non mi sono sentito di dare la vittoria semplice alla Roma, pertanto dico di giocarsi l'over. Cioè ci saranno più di due gol in questa partita. Sampdoria-Bologna. Sampdoria-Bologna, altra partita dove la Sampdoria di D'Aversa dovrà necessariamente fare punti, altrimenti io penso che D'Aversa potrebbe anche saltare. Bologna invece, sereno d'animo, ma proprio perché sereno d'animo potrebbe cadere in una debacle clamorosa, perché quando il Bologna è sereno, allora vuol dire che gli spettri stanno per arrivare. Speriamo, ovviamente, visti i colori che sono qua dietro, che così non sia. Però io mi gioco il gol, cioè tutte e due le squadre andranno a segno almeno una volta. Udinese-Sassuolo. Storicamente questa è una partita con pochi gol. L'Udinese dovrà trovare solidità perché ultimamente non riescono mai a trovare la via della vittoria. Il Sassuolo vince partite clamorose, poi ne perde altrettanto clamorose. Io la vedo una partita con pochi gol, quindi qua rischio e dico under, cioè si segneranno meno di tre gol. Lazio-Salernitana. Qui io, va bene che Sarri ha problematiche a preparare partite come queste, perché sono proprio queste le partite dove Sarri perde punti. Però obiettivamente se la Lazio mi perde punti in casa con la Salernitana, non so dove vogliono e possano arrivare. Quindi io dico uno, sapendo che rischio, perché questa è una partita dove dire uno, Lazio vincente sulla Salernitana, rischio, sembra paradosso, ricordatelo. Voglio rischiare, dico vittoria dalla Lazio. Ma Sarri in queste partite, diciamo, non le sa preparare. Vedremo. Napoli-Verona. Napoli-Verona. Il Napoli potrebbe essere con delle assenze importanti, ma dovrebbe recuperare sia Insigne che Osimè. Però il Verona viene da delle prove tagliarde. Il Napoli prima o poi dovrà perdere punti. Lo diciamo ormai da non so quanto, ma prima o poi accadrà. Allora, io dico di giocarsi il gol. Questa volta non me la sento di dare il Napoli vittorioso semplice. Quindi mi gioco il gol tutte e due le squadre da un assegno almeno una volta. Arriviamo alla partita di cartello, la partita indiscutibilmente più bella della giornata, di questa dodicesima giornata di Serie A. E parlo di Milan-Inter, ossia il derby di Milano, il derby della Madunin. Ok? Allora, anche qua, stesso ragionamento che ho fatto prima per il Napoli. Il Milan dovrà perdere in campionato qualche punto. E ha vinto a Roma. Laddove io pensavo perdesse qualche punti. Però, statistica alla mano, non è che Napoli e Milan potranno arrivare alla fine con 38 partite giocate, una pareggiata e una persa. Da qualche parte, qualche punto, lo dovranno perdere. E chi meglio dell'Inter può, appunto, provare a far perdere punti al Milan? Pertanto l'Inter, tra l'altro, l'ho vista molto in forma contro lo Sheriff. Sono in un momento molto on fire. E io dico di giocarsi il segno doppio. Quindi mi spreco, tra virgolette, spreco qua la doppia della giornata. E dico X2. Cioè l'Inter fermerà il Milan, che non gli farà prendere tre punti. Quindi X2 in Milan-Inter. Ora, il ricapitolo dei risultati, dei pronostici, dei risultati per la Serie A. Ok? Do qualche indicazione per il fantacalcio. Ok? E in Poligenova mettete assolutamente dentro Pinamonti. Per chi ce l'ha, Anderson. E anche, ok, trovate un posticino. Magari entra nel secondo tempo a Bairami. Che potrebbe, chissà magari, su rigore. Va bene. Mettela dentro Caicedo. Ovviamente, manca dirlo. Chi ce l'ha, lo metta dentro. Perché potrebbe essere la sua partita. Ok? Da mattanza. In Spezia Torino, proverai la carta Verdi. Che questo è un nome abbastanza, eh. Abbastanza strano da consigliare. Ovviamente, battete il ferro con Singo. Se ce l'avete. Perché è un fire. Nella Juventus, ovviamente, dentro Chiesa, che è il grande ex, potrebbe bollare. Ok? E fare male alla sua ex squadra. Quadrado. Chi ce l'ha, lo metta. Cagliari-Atalanta. Io dall'Atalanta sempre non lascerei fuori nessuno. Ok? Quindi metteteli tutti, se ce li avete. Specialmente i difensori che prevedo essere loro in questa partita. I mattatori dell'incontro. Quindi tutti i difensori, se ce li avete, cacciate lì dentro. Da Palomino a Jim City, che è tornato. Venezia-Roma. Mettete Aramu, che è rigorista e potrebbe magari trovare la via del gol in casa. Che la trova da tre partite consecutivi in casa col Venezia. Chissà che non faccia 4 su 4. Nella Roma, io darei fiducia a El-Sharawi, che mi sembra obiettivamente quello più on fire del gruppo. Sampdoria-Bologna. Occhio a Gabbiadini, che vede nel Bologna una delle sue prede preferite. Quindi se ce l'avete, fateci un pensierino. Pur io non amando molto il giocatore, perché a me proprio non piace come stile di gioco. Però insomma. E nel Bologna? Teate. Teate. Se ce l'avete, mettetelo così come gli esterni del Bologna. Il Key e De Silvestri. Ovviamente se ci avete Barro e Arnauto, vi ci mettete le docche chiusi. Udinesi-Sassuolo. Mettete sempre Pereira, Betto, neanche a chiederlo. Ok? Poi, nel Sassuolo si potrebbe provare la carta Bogà, che ritorna da titolare e chissà mai che non la metta. Ok? Nella Lazio. Io, immobile ovviamente, e tutti i terminali offensivi sono da schierare, per carità. Ok? I Savic, i Luis Alberto, ovviamente. Ok? Della Salernitana eviterei. Napoli-Verona. Qui Barac, ok? Ma lo stesso Lazovic, se ce li avete, li metterei dentro. Ok? Nel Napoli magari il gol potrebbe venire da un insospettabile. Ok? Magari chissà il gol dell'ex del Ramani. Milan-Inter. Finiamo con Milan-Inter. Che cosa consigliare? Ma in questo caso io consiglierei un Barella. O magari un Vidal che entra nel secondo tempo e la risolve. Un Sanchez, ok? Che è quelli che non ti aspetti e che potrebbero essere i dissolutori dell'incontro. Nel Milan... Nel Milan eviterei difensori. Così non so. Tutti magari metterebbero Calabria dentro senza batterciglio. Io eviterei. E solamente Chiar mi sentirei di schierare. Per il resto passerei a questo giro. Bene, questi sono i consigli che vi do. Sia per quanto riguarda il bet che il fant. Ammarcomandimi, cari eventori, fate i vostri giochi. Scommettete con parsimonia. Attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui. All'usione a barcaccio di noi nei video. Iscrivetevi, condividete e lasciate sempre il vostro mi piaccino. E noi ci sentiamo alle prossime. Chiacca da bar!